la meritavamo e l'abbiamo portata e battiamo i colleghi di maggioranza e il nostro fianco esultano ci lancia uno sguardo puglia il cielo non si deve esultare in tribuna stampa ma chi se ne frega si deve abbracciamo Francesco Repice guarda facciamo uno strappo alla regola Francesco serata magnifica abbiamo anche mandato in onda la concorrenza ma siamo tutti amici una serata magnifica questa è la sua voce